musica per questo canale mi sta dando sempre più soddisfazioni ora ho visto molte persone che hanno aderito al progetto pubblicizzazione e le farò adesso credo tra una settimana farò il loro video comunque ragazzi continuate a seguirmi anche voi che aiuto perché mi fa veramente piacere comunque bando alle cianciole e vi rimando subito ai tre video delle serie via con l'agevolia anzi è una volta che volevo dirlo acevoliamo il filmato via eccoci qui ragazzi questa è la prima mappa delle tre che vi propongo che poi voi voterete attraverso uno straw pool che vi spiegherò bene alla fine del video cos'è allora questa è la skygrid adesso il creatore della mappa non lo so gli renderò onore nel caso la farò sul canale comunque vi porto l'idea che le voglio fare tutte e tre quindi prima o poi magari le riuscirò a portare tutte e tre per ora però vi faccio vedere cosa è questa è la skygrid è una cosa maniacale ragazzi è maniacale io non vi esprimo la mia preferenza perché non vorrei condizionare i vostri la vostra scelta però guardate questa roba cioè ragazzi questa è una roba fenomenale mi sono anche informato sul fatto della piattaforma di vetro perché io avevo visto video di qualche anno fa qualche mese fa anche che tutti sponavano sopra un blocco quindi non so magari erano le versioni vecchie infatti mi sono informato e dicono che dalla versione 1.5 che è questa si chiama 1.5 ma io sono nella 1.8.3 dalla versione 1.5 spawni su questa piattaforma di vetro quindi ogni volta che muori risponi qua dicono da quello che ho letto su un forum che l'abbiano fatto per rendere più difficile le esperienze per scendere giù quelle cose lì perché è veramente complicato comunque questa ragazza è una mappa survival parkour survival l'ho rinominata io perché è un po' parkour c'è di questa mappa deciderò credo che non metterò la la come si chiama la keep inventory che ti permette di morire ma tenere l'inventario perché secondo me non sarebbe giusto poi se vediamo che la serie evolge verso tutte le puntate di perdere la roba potrei inserire la keep inventory solo per la roba importante e buttare ogni volta la roba non importante che prendo poi tutto starà anche sui vostri commenti comunque dicevo questa è la mappa è esplorabile ma è una roba incredibile queste sono 3.000 episodi per finire di esplorarla vabbè comunque gli obiettivi ho visto una mappa una lista di achievement da completare ma non so se sono ufficiali perché l'ho trovata su un forum postati da una persona ma non so se sono ufficiali però cercherò di mantenerli e poi mi informerò se sono ufficiali l'unica cosa che volevo dirvi è questa è la prima mappa la skygrid questa mi piace veramente molto non vi esprimo il mio voto come vi ho detto perché non voglio condizionarvi però è veramente bohiede è un casino assurdo lei è un casino assurdo vabbè a parte parlare come un coglione quindi questa era la prima mappa ora ci vediamo direttamente alla seconda mappa e poi alla fine delle tre mappe attraverso lo straw pool come vi dicevo vi spiegherò dopo vi esprimerete la vostra opinione a dopo ecco ragazzi questa è la seconda mappa devo muovermi perché sta accadendo il crepuscolo ma comunque questa è la world in a jar noi siamo in tante piccole bottiglie jar come nominate e dobbiamo esplorare varie bottiglie c'è quella dei mushroom ci sono queste piccoline con tanti animali quella con l'acqua e l'obiettivo nostro sarà vivere questa è una vera survival map proprio definita survival map l'ho definita con tanti molti eventi ho visto tutti più o meno strani qua c'è un ender chest perché forse ci sono varie ender chest in giro qua i stulest una zucca e qua niente noi partiamo in questa piccola jar in cui abbiamo abbastanza roba poi dobbiamo esplorare le varie jar e trovare tutte le cose che ci sono da trovare completare gli achievement trovare una roba l'altra adesso gli achievement non me li sono segnati però comunque ci sono tantissimi achievementi questa è una survival map molto più classica ragazzi infatti che fa una paura questi suoni ragazzi vabbè comunque quindi questa è la seconda survival map è diversa dalla sky grid ed è molto più impostata lì fissa tu sai cosa devi fare cerchi di farlo e vai nelle altre bottiglie se non sbaglio questo è vetro quindi si quindi non lo rompiamo non è vabbè anche per me poteva essere ossidiana perchè io non ho cambiato la la texture word in a jar by gt hawesam soos ok ragazzi quindi qua si è spammato da solo il nome quindi gli rendo grazie anche questa intenzione di farla però dipenderà dal tempismo dei vostri voti quando farla se prima o dopo comunque anche questa è un'altra bella serie questa mappa è molto più survival come vi ho detto più impostata e che dirvi quindi aspetti i vostri voti questa era la seconda mappa e ora vi vado a presentare la terza mappa di questa specie di mini concorso per sapere la vostra migliore preferenza quindi a dopo ragazzi per la terza mappa eccoci qui ragazzi per la terza e ultima mappa diciamo in questo concorso in questa specie di idea questi muri sono fatti con i nuovi blocchi mi sa del mare se non sbaglio vabbè non si può rompere niente comunque qua ci abbiamo Aikiebo Sekeleton don't wish us la ecco beta tested ah sono i beta tested della mappa il resto un buy e più vabbè ok comunque non ci schiamoci qua c'è scritto map build by team volu youtube.com e ti si spammano click the button to start allora io schiaccio il bottone e poi nel caso voi decideste di non farla subito la serie e lasciola così com'è comunque welcome la tua modalità di gioco è stata aggiornata don't level skyblock it is basically skyblock but without cobblestone generator è una specie di skyblock senza il generatore e con i spawner dentro molti spawner di scheletro droppano i chicken per esempio e i drop sono completi questi si vabbè ragazzi neanche c'ho tutto il tempo di legge poi magari se fate pause lo leggete voi comunque and blue text is clickable alright test you ah il blue text is clickable quello che è farlo inventare appena fatto ok questa è la mappa in cui spawniamo come vedete c'è il sito get wood che è la prima quest questa mappa è composta da 18 quest 20 anni da esplorare 8 spawner di mostri che ci danno vari benefici e anche problemi una rocca forte per combattere non ho capito cosa vuol dire e la lotta epica finale contro l'ender dragon che già mi fa mi fa sporcare i pantaloni no scherzo si però mi fa preoccupare perchè non ho mai affrontato l'ender dragon però quindi questa è una quest map da come l'ho nominata io però credo che sia un termine generico la quest map la prima cosa da fare è get wood però io non faccio niente perchè come ho detto inizieremo la pappa qualora voi decideste di farla però questa quest map lavora su 18 quest più o meno difficile da completare ho visto un episodio due proprio per non spoilerarmi niente per vedere come si gioca però comunque ti dice tutta la chat su come raggiungere le quest questa quindi ragazzi è la terza mappa la prima era una parkour map barra survival quella di skygrind skygrid puoi ordinaggiare una survival map classica molto pazza secondo me e la skygrind che è questa che ha un n in più skygrid e skygrind che coincidenza ragazzi la skygrind che invece è una quest map come l'ho nominata io e il primo achievement sarebbe quello di il primo quest è quella di trovare il legno comunque ragazzi quindi questa era la terza mappa grazie al team ww per averla fatta quindi aspetto una vostra risposta attraverso lo strawbull che vi spiegherò alla fine del video nel mio canale cosa vuol dire quindi ragazzi per questa terza mappa è tutto aspetto i vostri commenti per vedere quale la mappa sarà la più desiderata saranno tutte e tre più o meno abbastanza lunghe da portare comunque vi rimando alla fine del video e aspetto i vostri commenti sulla mappa aspetterò due o tre settimane ragazzi in quelle tre settimane mi prendono un periodo non diciamo vacanza da minecraft ma farò qualche video mi conciterò su altri video ok ragazzi vi rimando alla fine del video ecco ragazzi come avete visto i tre video delle serie skygrid world in a jar e skygrid come detto prima non vi dirò qual è la mia preferita perchè non vorrei condizionare la vostra scelta spero che in molti risponderete a questo mio sondaggio attraverso lo straw pool che adesso non lo so se ve lo faccio vedere vabbè sarà una cosa che vi allego in descrizione e voi andando a leggerla potete votare tranquillamente metterò che si può fare una scelta sola e lì voterete la vostra mappa per chi non ha neanche voglia di andare a vedere nella descrizione ragazzi comunque accetto anche i commenti però sarebbe più bello che voi andasse a votare con lo straw pool che è un link velocissimo tu vai spero di riuscire a trovarlo e di mettervelo se no tranquillamente voterete con i commenti comunque quindi queste erano le tre mappe una parkour survival map quella definita skygrid molto bella ragazzi esplorabile un casino assurdo poi voi deciderete come ho detto nel video se mettere il kimp inventory o non metterlo poi una world in a jar che è una survival map proprio nuda e cruda eccola non poteva mancare fatta così e così è con tanti achievement e poi una skygrid skygrind che ha la n in più ed è una quest map come l'ho definita io ma credo che tutti la chiamino così che è basata su 18 quest aree di esplorare e cose da fare è un ender dragon che già mi fa preoccupare quante rime ragazzi troppo bravo comunque come vi dicevo spero sinceramente che voi commentiate e votiate perché io aspetto proprio il vostro feedback positivo del vostro voto come dicevo nell'ultimo video uno dei video di quelli aspetterò tre settimane quindi tre settimane ne avete di tempo per votare ma anche chi passa a caso dentro il canale può votare mi fa piacere poi magari comincia a seguirmi o qualche consiglio sulle mappe come dicevo quindi lascerò per tre settimane questo voto aperto quindi per tre settimane i video di Michael saranno esenti dal mio canale ma pubblicherò riprenderò Mass Effect che porterò avanti e finirò quindi ragazzi seguitemi in queste tre settimane avete tre settimane di tempo per votare fate votare i vostri amici votate con 3 4 account diversi fate quello che volete ma aspetti i vostri commenti quindi da Dicore 25 per questo video è tutto lasciate un like ancora che rompe le palle lasciate un like un commento ed iscrivetevi al canale qualora ancora non lo foste vi aspetto in molti su questo mio canale voglio arrivare ai 300 e ai 300 avrò una sorpresa per me qua la freccina la rampeggia quindi ragazzi da Dicore 25 è tutto e good luck ragazzi ciao ciao ciao